Sono Lara Bellamico e mi occupo di risorse umane nell'azienda Ramamotori S.P.A. È un'azienda di Reggio Emilia che si occupa dalla sede della distribuzione di motori e accessori legati a motori di tipo industriale, sono motori diesel e gas. Ci sono altre due divisioni, una è la divisione agriservice qui vicino a Reggio Emilia che si occupa della distribuzione di ricambi per il giardinaggio e per l'agricoltura e la divisione verde Max che è una importante realtà ormai distributiva di prodotti finiti da giardino. Complessivamente occupiamo circa 70 persone su tutte e tre le divisioni, delle quali 25 e 28 nella sede motori e altrettante più o meno nella sede verde Max e 15-16 nella divisione più piccolina che è agriservice. Ci siamo rivolti a Formap ormai 6-7 anni fa, alla risorsa umana nello specifico perché avevamo necessità di avere un organismo di supporto che curasse la formazione degli apprendisti e degli allora tirocinanti o di neonseriti in generale. Progressivamente abbiamo sviluppato con loro dei metodi di supporto che ad oggi ci risultano molto funzionali, molto precisi. viene curato fin dall'inizio il piano formativo in modo molto attento con certamente un occhio sempre aggiornato su quelli che sono i requisiti di legge che ovviamente è una cosa che gli specialisti riescono a presidiare meglio di noi e viene redatto un registro mantenuto, accurato, controllato, con cadenze periodiche a mio avviso giuste, corrette, non troppo invasive ma nemmeno troppo dilazionate che poi rischiano di far perdere un po' il contatto con quello che è il progetto in corso. Complessivamente ci troviamo quindi molto bene, le ragazze sono molto attente, molto precise, molto preparate tutte quante e dimostrano grande disponibilità a seguire i nostri neodipendenti sia su temi generali sia anche talvolta su temi specifici. Grazie